bandiera, lungo, no, no, dritto di lato, casetta, bandiera, i miei piedi a destra, come a destra? ah, ci facciamo qui e giriamo di lato? si, lungo, rettiline, così, 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 è bene o no? aspetta, io sono anche in 30 gradi e io vado piano ragazzi, ci sono, uno, 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 GUN 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.